Grazie di essere qui con noi. Ben arrivato Maurizio Catapan, Presidente Provinciale Brucia Turisti, confartigianato di Treviso, grazie anche a lei. Allora, il tema è molto interessante. Più volte, in più occasioni e circostanze, anche di recente, abbiamo parlato di efficientamento energetico nelle nostre abitazioni. Dati allarmanti che vengono da studi internazionali ci dicono che l'Italia, purtroppo la Pianola Padana, in modo particolare, ha delle situazioni molto gravi di dispendio energetico, con conseguente inquinamento, danni ambientali alla salute delle persone, perché guardiamo non solo al portafoglio, all'ambiente, ma anche alla salute delle persone, è bene intervenire perché comunque la nostra abitazione ci costa tantissimo, ha un valore, un costo in termini economici che è molto rilevante. Ma cosa vuol dire efficientamento energetico? In che cosa consiste? C'è un'iniziativa molto importante che è stata realizzata, frutto di un lavoro anche di un certo periodo di tempo, perché è complessa, realizzata appunto da Ascotrade con partnership che adesso scopriremo insieme nel territorio provinciale di Treviso, parte da qui ma poi si espanderà in tutta l'area di copertura di Ascotrade, che riguarda proprio questo, efficienza energetica. Quindi riscaldamento, quindi caldaie, quindi agevolazioni per le famiglie e non solo. Noi di questo parleremo in questa circostanza, però prima di addentrarci in tutto questo, approfondendo anche gli aspetti tecnici, perché abbiamo la fortuna di avere qui anche un bruciatorista e quindi potrà supportarci in tutte queste questioni, con il Presidente facciamo un preambolo. Vediamo di capire cosa sta facendo adesso Ascotrade nei vari ambiti di cui si occupa e diamo certe rassicurazioni anche a coloro che sono passati da Ascotrade oppure ancora non lo sanno, non hanno ben capito se vale la pena, o meno hanno paura, hanno qualche titubanza, eccetera. A lei la parola. Sì, grazie. Beh, allora, cominciamo, per chi non ci conosce magari, diciamo che Ascotrade è una società del gruppo Ascopiave. Il gruppo Ascopiave è storicamente una società consolidata nel territorio trevigiano e non solo, nel Nord Italia in particolare. Ascotrade nasce nel 2003, quando è stato liberalizzato il mercato delle energie, quindi la vendita del gas e la vendita dell'energia elettrica. Oggi il nostro mercato si espande dai confini con la Svizzera fino alla provincia di Pordenone, un pezzettino anche dell'Emilia Romagna e ovviamente tutto il Veneto. Questo è un po' l'area commerciale dove operiamo. Sono 350 mila i nostri clienti, operiamo anche in porzioni del territorio della provincia di Padova, ovviamente. Vendiamo, dicevo, gas ed energia elettrica e grazie a Dio cresciamo molto nella vendita dell'energia elettrica. Questo ci dà molta soddisfazione perché appunto Ascotrade nasce come operatore che vendeva principalmente gas. Poi da alcuni anni siamo entrati anche nel mercato della vendita dell'energia elettrica e quindi con molta soddisfazione stiamo crescendo anche con i clienti su questo tipo di mercato. Ecco, che vantaggi ci possono essere a fare un cambio del genere? Perché alcuni hanno ancora titubanze, soprattutto le persone magari di una certa età che però sono allettate dal discorso di un possibile vantaggio. Beh, guardi, tutti i vantaggi che può portare una società di questo tipo quindi con caratteristiche diciamo territoriali, fortemente radicate nel territorio. Prima di tutto vorrei anche cogliere l'occasione, magari così comunichiamo a chi ci sta ascoltando, ci giunge voce che parecchi competitor nazionali stanno facendo il loro mestiere anche su questo territorio e che parlano di situazioni di difficoltà, di cambio di operatore perché conviene direi guardate tranquilli tutti perché Ascotrade gode di ottima salute, siamo in forma, il progetto che presentiamo oggi ne è una dimostrazione. Conviene passare con Ascotrade perché sul versante dell'energia elettrica operiamo esclusivamente nel libero mercato, sul versante del gas operiamo in tutti e due mercati, quello tutelato e per spiegare brevemente tutelato significa i prezzi imposti a livello dell'autorità quindi del governo e operiamo anche nel libero mercato. Perché conviene passare nel libero mercato? Perché ci sono tutta una serie di valori aggiunti, compreso l'iniziativa appunto di cui parleremo a breve e perché le società sono orientate a quel mercato che fra tre anni diventerà esclusivamente libero. Quindi nel 2018 dovrebbe essere a deadline, a quel punto ognuno di noi, soprattutto i molti che ancora stanno nel mercato tutelato, io aggiungo ai me per loro stanno nel mercato tutelato, dovranno transitare nel libero mercato. Libero mercato significa concorrenza a tutti gli effetti, chi oggi lo sta facendo, aggredendo con strutture locali fa il suo mestiere, non fa più il suo mestiere però quando va a cerca di portare via clienti parlando male dei concorrenti. Io credo che sia opportuno ognuno metterci la faccia, dare il meglio di sé portando anche valore aggiunto al cliente finale. Ascotrade è una società che cura il cliente sotto il profilo della comodità, sotto il profilo della serietà delle proposte commerciali che fa e a dimostrazione del fatto, ancora una volta, quello che presenteremo oggi ma anche l'attenzione particolare che mettiamo sul territorio. Mi lasci citare ad esempio, lo dico anche con orgoglio, gli otto impianti iperdisabili che abbiamo finanziato negli ultimi due anni e quello che faremo anche a breve nella prossima stagione che stiamo per aprire e tutte le attenzioni che poniamo sulle difficoltà che il territorio, giovani, anziani possono avere ed è una cosa che viene naturale per una società delle nostre dimensioni perché è fortemente radicata sul territorio. Assolutamente. Gli aumenti paventati dell'energia elettrica che emergono poi tra le tante novità della nuova legge di stabilità, quindi che conseguenze eccetera, con tassazioni aumenti, coinvolgeranno comunque anche voi? Guardi, il tema delle bollette sostanzialmente, la sua domanda va in questa direzione. Molto terra a terra per le persone. Giusto per farci capire, è sempre il solito, la materia prima ha un peso all'interno della fatturazione, della bolletta che ci arriva a casa, prossimo al 50%, sia per quanto riguarda il gas che per quanto riguarda l'energia elettrica, il resto sono tasse e accise, quindi se ci fossero meno tasse, se ci fossero meno accise, tutti noi pagheremo meno la nostra bolletta che ci arriva a casa ogni due mesi. Purtroppo questo non accade. Poi la materia prima, quindi ancora l'energia e il gas, viene governata dal mercato. Le società operano in borsa, operano su borsi internazionali, acquistano il gas e la corrente e poi lo rivendono ed è chiaro come è successo anche recentemente, nel periodo estivo quando c'è meno domanda si abbassa il prezzo, nel periodo ottuno e inverno, quando la domanda si alza, è chiaro che aumenta ancora il prezzo. Purtroppo, ripeto ancora, ma solo per un tema di chiarezza per tutti, se ci fosse un peso inferiore rispetto della tassazione, tutti noi pagheremo meno. Però va anche detto che il gas che noi paghiamo oggi, il prezzo del gas che paghiamo oggi è quello del 2012. Questo è corretto dirlo, quindi da una parte attenzione e magari qualche volta lamentela anche per i costi che abbiamo, però ricordiamoci che stiamo pagando un prezzo che va a guardare al 2012 rispetto a quello che paghiamo oggi. Assolutamente, visto che lei ha accennato il discorso bollette, l'Enel si è pronunciata, che cosa ne pensate voi del discorso del canone Rai ancora in discussione, perché ormai si è rimesso in discussione tutto, però comunque messo dentro in bolletta, la vedete, perché l'Enel la vede come penalizzazione e crea confusione, voi avete valutato questa situazione? No, allora devo essere franco, noi non ci stiamo ancora ragionando su cosa dobbiamo fare, è chiaro che come operatori del settore ci dovremmo adeguare e quindi troveremo al nostro interno i meccanismi poi per inserire come faranno i 200 operatori che vendono gas ed energia elettrica in Italia, come dovranno fare, ci adegueremo a questo se sarà approvato dal Parlamento, a questo nuovo sistema e quindi lo faremo anche noi. francamente non riesco a vedere le difficoltà se devo essere sincero, credo che siano più difficoltà di carattere normativo per distinguere ad esempio chi non ha una sola abitazione, quindi chi ha più abitazioni e di conseguenza più forniture, ma questo diventerà un problema di norma, non tanto dal punto di vista tecnico per la fatturazione. Infatti è risolto questo, è una domanda abbastanza frequente dai nostri telespettatori, entriamo un po' nel merito di questo progetto, sette mesi di lavoro intenso perché ci sono delle partnership che avete avviato rilevantissime e tante, tra l'altro, allora che cosa avete pensato e questa iniziativa efficienza energetica della caldaia a chilometro zero cosa vuol dire? Beh, l'efficienza a chilometro zero significa sostanzialmente cambiare la caldaia, cambiare la pompa di calore e quindi quello che tutti noi chiamiamo il condizionatore, quello che ci dà il fresco in casa d'estate, cambiare valvole termostatiche, ma anche fare molto di più se qualcuno ha bisogno di sistemare l'impianto. Il tecnico ci dirà anche sotto il profilo tecnico fin dove possiamo arrivare tutti noi nelle nostre case. Abbiamo fatto una bella operazione, diceva giustamente lei, perché abbiamo messo insieme dieci soggetti, Ascotrade, le tre associazioni di categoria, Confartigianato, CNA, Artigianato Trevigiano che rappresentano in grosso modo il 100% degli impiantisti della provincia di Treviso e sei banche BCC. Ah, sei banche, quindi non poche assolutamente. La fondazione per capire, quindi tutte le sei banche che sono presenti nella nostra provincia. Consideri che per quanto riguarda le banche superiamo i 100 punti vendita, 100 sportelli. abbiamo creato un progetto, un prodotto che nelle nostre intenzioni fin dall'inizio doveva rendere la vita facile a chi voleva cambiare la caldaia, farlo risparmiare e ci siamo riusciti anche da questo punto di vista perché fin dalle prime riunioni quando ci siamo incontrati abbiamo detto mettiamo su qualcosa che porti un vantaggio effettivo alle famiglie trevigiane creando condizioni di lavoro perché questo era l'altro obiettivo, quindi creare anche le condizioni, le opportunità di lavoro in un momento di grossa difficoltà per tutti e dal punto di vista finanziario fare delle proposte finanziarie che siano al di sotto del mercato. Ci siamo riusciti, siamo partiti, l'abbiamo presentato tre settimane fa e già mi raccontano, mi dicono gli artigiani, stanno arrivando i primi contratti e quindi insomma al momento siamo soddisfatti. Ecco c'è una normativa al riguardo perché ci sono arrivate molte segnalazioni da telespettatori di approfondire tra l'altro questi temi in generale con voi della, dico, partigianato caldaisti eccetera nelle varie province perché molti amministratori di condominio hanno sollecitato nei vari condomini di fare dei cambiamenti di caldaia, di mettersi il termostato interno negli appartamenti, insomma di fare qualche cosa e molti ci hanno chiesto ma voi sapete se c'è qualche normativa cogente, qualche scadenza, qualche cosa di cui non siamo a conoscenza che obbliga a far questo oppure è un qualcosa che dice vi conviene farlo perché spendereste di meno? Guardi, il nostro accordo al momento prevede un intervento sulle abitazioni singole e sui condomini dove non c'è un riscaldamento centralizzato. Arriveremo perché ci troveremo e apriremo un nuovo tavolo insomma per raggiungere un nuovo accordo il prima possibile anche per i condomini con il riscaldamento centralizzato. Sono a conoscenza anch'io che la comunità europea stava imponendo il cambio ma credo sia rivolto più alle valvole termostatiche, però ancora una volta rimando poi alla risposta precisa. è chiaro che siamo in un momento comunque di evoluzione, di cambiamento, aggiungo perché l'ho dimenticato prima che l'altro grosso vantaggio di questa operazione è il contributo che si dà all'ambiente. Eh ma infatti questa è una sensibilità che ci dovrebbe... Cambiare la caldaia significa abbattere per ogni caldaia più o meno una tonnellata di emissioni in atmosfera, significa risparmiare quindi consumare molto gas perché si va da un 20, c'è un range che va da un 20 e un 30-35% di risparmio, quindi significa anche risparmiare soldini, oltre a poi i vantaggi che vengono dati dal prodotto commerciale che abbiamo pensato per questa proposta, piuttosto che ai 100 euro ad esempio che Ascotrade mette sul piatto per i nostri nuovi clienti che aderiscono a questa iniziativa per pagare le spese della parte finanziaria, quindi Ascotrade si accolla e la famiglia risparmia 100 euro e se ne ritrova nella prima bolletta. Ecco quindi questa iniziativa non è riservata soltanto ai clienti Ascotrade ma è aperta a tutti. È aperta a tutti, è chiaro che è aperta sia ai nostri clienti ovviamente ma soprattutto che poi quello che ci piace di più è convincere chi oggi non è nostro cliente ad aderire a questa iniziativa per risparmiare soldi, per abbattere l'inquinamento e per avere poi la comodità di pagare il tutto fino a 84 rate mensili, quindi su un consumo medio di circa 1200-1300 metri cubi all'anno si può arrivare a una rata mensile di 60-70 euro per i futuri 7 anni e quindi c'è tutta una serie di vantaggi, non ultimo quello della manutenzione e della garanzia estesa per i 5 anni successivi. E abbiamo le detrazioni fiscali. E ci sono, bravissima, ci sono anche le detrazioni fiscali. Quindi 65% delle detrazioni fiscali. Non è poco. Presidente. Sì, sulla parte diciamo un po' più operativa, volevo rispondere alla domanda che mi diceva prima sui condomini. Sì, è vero che entro la fine del 2016 i condomini dovranno per la parte di contabilizzazione dovranno gestire e inserire opportuni sistemi di contabilizzazione negli impianti che sono centralizzati. Come ha detto il Presidente Busolini, su questa parte della parte dei condomini questo tipo di accordo avrà un'evoluzione e su questo vedremo più avanti la possibilità di incentivare anche questo tipo di sostituzione di generatori e quant'altro. Per questo accordo che adesso è in vigore stiamo spingendo su questo perché per far conoscere che all'utente, al nostro cliente, al nostro vicino, cioè far conoscere alle persone, magari anche la persona, io dico la signora Maria che sta vicino a noi, che c'è la possibilità in maniera molto semplice, perché adesso spiegherò un attimo quali sono le procedure. C'è un numero verde di Ascotrade che ha messo a disposizione e quindi chiamando questo si può avere delle informazioni oppure collegandosi a un sito efficienzachilometri0.it ci sono, c'è la possibilità e vengono descritte tutte le operazioni che si possono, che si devono eseguire per accedere. 800 024 343 è il numero verde, quindi ricordiamo telefonare a quel numero per avere informazioni. Esatto, e questo è una cosa che serve subito per avere informazioni. Con questo si accede praticamente a un elenco di installatori e o manutentori che si sono qualificati, qui hanno fatto un corso di formazione e quindi in questo sono stati molto preparati e ci si accede e quindi si può chiedere un preventivo a chi si conosce oppure possono essere anche due o tre preventivi a questo elenco di persone qualificate, di installatori qualificati. Una volta che fatto il preventivo, anzi l'installatore esce, viene dall'appartamento, ha un modulo già precompilato per fare il sopralluogo e quindi per preparare un documento che deve rispondere per il proprio prediscorso dell'efficienza al proprio impianto, cioè io dico non tutti gli impianti sono uguali, quindi io dovrò dare risposta e dare anche un business plan, cioè io vi dirò che in 4-5 anni noi andiamo a risparmiare una certa somma. Quindi una persona, semplificando al massimo, vede sulla carta quanti soldi spende in meno nell'arco di un prestato. Esatto, questa è una cosa molto chiara e può fare già due conti, perché anche potrebbe andare, arrivare ad ammortare. Ma normalmente in 4-5 anni si va ad ammortizzare la spesa di investimento che viene fatta e chiaramente poi negli altri successivi anni si guadagna. Quindi su questo si vuole dare massima trasparenza e visibilità, perché proprio per questo progetto ricordiamo che noi ci mettiamo, come si dice, ci mettiamo la faccia, siamo noi gli installatori che comunque operiamo vicino agli utenti, quindi siamo qui della zona, non sono persone che vengono, come succede molto spesso, vengono chiamati dei prestatori di mano d'opera, mettono sugli impianti, poi non si conosce più, non si vede più nessuno. No, noi siamo persone che proprio come, anche perché dobbiamo dare, giustamente per chi vuole, una garanzia a 5 anni e la manutenzione tutto compreso, quindi sicuramente il lavoro verrà fatto nella massima efficienza e nella massima trasparenza. Parleremo anche del tipo di caldaie che voi proponete di installare e perché queste caldaie di cui si parla comunque abbastanza di frequente. Subito dopo la pubblicità, tra pochi secondi, poi anche l'area dove adesso si inizia, sperimentalmente diciamo, questo è sperimentalmente improprio perché in realtà è tutto quanto comprovato, però intanto è cominciata dalla provincia di Treviso, ricordiamolo, e poi successivamente in altri territori e tra poco naturalmente dopo la pubblicità.